Lo dico con un po' di orgoglio assieme alla campagna di un assorto di Stato Ingrado, perché da qui non passeranno. Sono le parole pronunciate dal governatore della Puglia Michele Emiliano a Taranto, a cui il segretario nazionale del PD Enrico Letta applaude, che hanno fatto infuriare la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Non mi interessa quello che hanno da dire i nostri detrattori, però c'è un limite a tutto, ha detto la Meloni dal palco di un comizio in Piazza Duomo a Milano. Voglio sapere da Letta, ha aggiunto, se questi si possono definire toni degni di una campagna elettorale in una democrazia. Immediata la difesa anche del coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato e dell'eurodeputato Raffaele Fitto. Sputare sangue è un'espressione violenta e minacciosa che specialmente in politica non dovrebbe mai essere utilizzata. Da Pugliesi non ci meravigliamo che queste parole le abbia utilizzate proprio Michele Emiliano, che ci ha abituati al suo linguaggio volgare e poco rispettoso. Soprattutto nei confronti degli avversari. Quello che ci meraviglia è che il segretario del PD Enrico Letta, invece che prendere subito le distanze da Emiliano, al termine del suo intervento lo abbia addirittura abbracciato. Infine la stoccata di Fitto e Gemmato. Se queste parole fossero state pronunciate da Giorgia Meloni, siamo certi che avremmo ascoltato un fiume di reazioni indignate con tantissimi commenti che avrebbero fatto riferimento all'immancabile linguaggio e comportamento fascista. In tarda serata è lo stesso Emiliano a spegnere però i toni. In riferimento alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici che hanno inteso strumentalizzare, etichettando come violente alcune parole da me pronunciate questa mattina, riguardo l'aspra contesa elettorale che stiamo vivendo, ha scritto il Presidente in una nota, si precisa che sputare sangue è una locuzione verbale che il De Mauro correttamente contestualizza in impegnarsi e affaticarsi molto in qualcosa, esattamente ciò che la destra in Puglia da diversi anni prova a fare per vincere le elezioni, finora senza riuscirci né per le amministrative né per le regionali.